È stato un sabato mattina movimentato ad Arezzo Prima l'intervento presso l'ex palazzo Enel in via Petrarca. Un 48enne ha tentato di gettarsi dalla finestra della palazzina ma è stato salvato. Sul posto oltre al personale sanitario anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire agli operatori di portare l'uomo in salvo. Originario della Tunisia è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti e dove avrebbe inveito anche contro gli operatori sanitari. Poco dopo in piazza Guido Monaco le pattuglie della polizia municipale sono state allertate per una colluttazione tra due cittadini del Bangladesh. Arrivati sul posto gli agenti hanno bloccato i due soggetti che si stavano affrontando con delle cinture usate come una sorta di guantone arrotolate nel pugno. I due si erano affrontati prima verbalmente. La discussione era nata per futili motivi uno dei due avrebbe offeso un altro connazionale più anziano. Le persone coinvolte sono state trasportate in caserma per gli accertamenti e da qui è stato allertato il 118 che li ha trasportati al pronto soccorso. Entrambi sono regolari sul territorio nazionale e sono anche colleghi di lavoro. Per uno dei due potrebbe scattare la denuncia per lesioni volontarie. È il sindaco di Arezzo con un post sul suo profilo social a complimentarsi con gli operatori. A nome mio di tutta la giunta scrive Ghinelli ringrazio gli agenti della polizia municipale che questa mattina in maniera tempestiva hanno aiutato una persona in difficoltà e si è dato sul nascere una rissa. È incomiabile come sempre il lavoro delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa.